soldi 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 sono ricco soldi soldi ho tutti questi soldi ma non posso spenderli perché non c'è niente qua non c'è niente oh salve buonasera bella faccia sono il banchire puoi depositare tutti i tuoi soldi qua dentro se vuoi ok una banca volante fantastico le ho viste tutte comunque sia ciao a tutti ragazzi e bentornatissimi qui il vostro caro bella faccia allora come state sono ricco 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 un blocco di soldi un blocco di soldi che se lo picchio fa uscire soldi 50 euro banchiere ok quindi questa è la tua banca vediamo un pochettino non ci posso credere deposita benvenuto in banca qui puoi depositare i tuoi soldi e usarli per comprare oggetti per depositare clicca deposita ok deposita ok mi sono spariti i soldi fantastico e ho 50 euro ok e mi posso comprare un cavolo di niente armata di scheletri ok siccome sono nudo e non ho nulla non penso sia una buona idea voi cosa dite ragazzi saldi 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 200 euro 200 euro ragazzi dammi 10 euro ma dammi la banca nota da 500 il viola voglio il viola ok 20 euro abbiamo poi ok 5 guardate 5 euro 20 euro 10 200 allora viene un po qua signor banchiere vieni ah no è vero devo metterli nella banca deposita 285 euro ma quanto costano queste cose se oh mio dio carbone più di 1000 euro il diamante il ferro oh mio dio la terra 1300 ma che terra è scusi signore bella faccia non fare domande e non rompere le scatole e muoviti subito ok va bene mi muovo e depositerò tutto lì dentro eh dai ti prego voglio la banconota viola la banconota viola della felicità ok 200 euro 10 20 poi cosa abbiamo 5 euro qualcosa di un pochettino migliore o altri 200 euro comunque sia quanto ci vuole mamma mia per prendere questi soldi ma io diventerò povero eh è sicura questa banca comunque ok 520 740 o il legno sì ok dammi il legno sì abbiamo preso il legno allora è utile mettere i soldi in banca eh ok allora direi che ci facciamo ecco qua un bell'isolotto tutto per noi e continuiamo a prendere i soldi tanto ormai abbiamo capito come andrà il video guardate quanti soldi ragazzi è addirittura una banconota da 500 500 100 euro 5 euro 50 10 20 200 ok è il momento di mettere tutti in banca guardate 3400 ok mi prendo vediamo terra pietra ferro se vabbè ancora queste cose sono troppo costose allora mi prendo il legno mi prendo uno di terra dammi degli altri di legno fantastico cioè ho speso tutti i miei soldi per questi blocchi ma vi immaginate ragazzi se veramente tutti i blocchi costassero così tanto io diventerei povero eh però sarebbe molto divertente ok allora facciamo come sempre la nostra piattaforma perché poi in banca possiamo comprare vediamo oro acqua carbone diamante set incantesimo lupo mela d'oro possiamo prendere un sacco di cose per andare avanti nella nostra skyblock dei soldi eh allora vediamo intanto faccio così amico mio io direi che qua possiamo iniziare hai dei semi dopo da darmi pietra bistecca oro ma scusa ma che mi serve la terra porca miseria vabbè andiamo avanti dai ho sentito la parola semi guarda un pochettino non mi dire che commerci eh i semi semi di grano barbabietola anguria zucca ma che cosa cinque sei settecento euro per tutte queste cose ma sei impazzito mi dispiace bella faccia dovrei comprarle da me perché qui non vedo altri mercanti ah ok fantastico steve elegante però sei vestito alla moda sei vestito proprio come me ok dai dammi questi semi ok ma guardate quanto mi vieni a costare barbabietola grano anguria no la zucca non me la posso permettere cavolaccio no ti prego cavolo 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 allora vediamo depositiamo tutto in banca ok 2000 mi dai dell'altro legno ancora 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 ok fantastico con questo legno ci facciamo una crafting table si 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 proprio così allora io direi che la facciamo qua eh ci facciamo una crafting e facciamo la zappa si perché così possiamo piantare le cose finalmente posso farmi anche un piccone dai che scavo più veloce dai che scavo più veloce vediamo si si scavo più veloce più soldi più soldi per bella faccia più soldi ma perché così pochi oh ho un bancorotone voglio un bancorotone gigante da cinquecento allora cosa deve fare uno per vivere ok allora vediamo un pochettino tu intanto mi dai questi semi di zucca poi deposito tutti i miei soldi 3000 si abbiamo superati 3000 allora altra terra mi serve terra terra se abbiamo speso più di 3000 euro per due blocchi di terra se la terra costa cara allora sappiamo mettiamo i semi barbabietola zucca ok barbabietola barbabietola so detto e mettiamo anche la zucca testa di zucchina ok me ne servono di più mi servono più soldi oh mio dio ragazzi sono già povero c'è guardate quanto è difficile trovare la banconota da 500 c'è solo 5 ne ho trovate e quella da 5 euro ne ho 50 ma io non ci posso credere allora deposita da stavolta un sacco di soldi si 5000 deposita deposita tutto dai 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 più di 10.000 euro si tutto 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 ma non è più di 10.000 allora diamante no non dirmi che me ne dai solo uno è col cavolo che spendo tutti sti soldi oro bistecca ferro serve il ferro ma come ma nemmeno raffinato ma mi prendi in giro ok carbone legno ci serve più legno altra terra e non abbiamo già più nulla c'è speso ragazzi per 10.000 euro queste cose ma mi prendete in giro 10.000 euro ma non ci valgono ste cose 10.000 euro ok vabbè lasciamo proprio perdere minecraft eh ok mettiamo un altro blocco così la nostra anguria no che avevo piantato la zucca cresce testa di zucchina poi la fornace quanto mi c'è vabbè ragazzi la pietra 900 ma ma mi prendete in giro che posso fare una cesta non posso fare nulla posso fare nulla posso solo ingrandire la mia isola sono ricco 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 sono ricco 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 sono ricco 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 quanti soldi 15.000 16.000 17.000 tutti 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 quasi 20.000 19.000 dai con queste banconote da 5 guardate mamma mia quanto ci metto ok 19.000 ne abbiamo tantissime allora pietra no solo una dai no 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 mi prendi in giro allora legno 2 pietra 1 2 3 4 5 6 7 8 per fare la fornace ferro prendiamo altro ferro ferro non abbiamo più i soldi no vabbè dai se abbiamo 19.000 tutte ste cose ok va bene minecraft ok quindi piccone mettiamo la pietra e la rompiamo e ci dà la cobblestone usare il 100% del proprio cervello è questo qui intanto le cose non crescono neanche a pagarle almeno ci possiamo fare la fornace yes fornacina piccolina no no ho sbagliato no no la fornace volevo mettere no adesso non posso nemmeno metterlo cavolo no uffa ma perché ma perché ho sbagliato a metterlo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia allora voglio fare una prova spero di non pentirmene eh con la pale in ferro scavo più veloce eh fantastico ho buttato un lingotto guardate quanti soldi che sto depositando vai 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 40.000 quasi vai deposita mamma mia mamma mia guardate che roba deposita deposita arriviamo a 40 dai 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 5 dai 5 euro fattesi arrivare no non ce la facciamo oh mio dio guardate 399 40.000 si ok ok allora acqua oro ci prendiamo ferro ferro ma guardate se devo sprecare tutto bistecca per ora non ci serve 7 incantesimo proviamo 7 incantesimo 7 incantesimo tavolo degli incantesimi libro librerie lapislazuli no vabbè no vabbè non ci credo non ci credo il lupo 15.000 ma che è allora acqua carbone vediamo un pochettino allora mi servirebbe del carbone carbone ok mettiamo a cuocere mi serve un altro di ferro ok stavolta non sbaglio eh stavolta non sbaglio allora vediamo ampliamo la nostra costruzione la nostra bellissima casa perchè adesso ho anche il tavolo degli incantesimi e voglio proprio vedere dammi ecco qua dammi un sacco di legno voglio vedere se mi dà dei nuovi incantesimi perchè adesso possiamo fare una trivella un super piccone ragazzi possiamo fare un piccone così potente che distrugge veramente tutto ok io lo metterei qua un po' in mezzo alle scatole allora librerie mettiamo tutte le librerie mamma mia quante ce le ha date veramente tantissime ce ne ha date tante ok vediamo industrittibilità efficienza allora vediamo tu i lingotti ce li prendiamo mi dai allora intanto mi dai oh si il piccone finalmente il piccone il piccone in ferro cioè guardate quanto scava veloce ok vediamo industrittibilità efficienza no voglio qualcosa di meglio no 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 devi darmi di più allora set incantesimo no 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 voglio qualcos'altro voglio voglio deposito posso prendere altro vabbè dai proviamo efficienza 1 mamma mia che spreco vai super veloce super velocità guardate come scava ok fantastico molto più veloce adesso si ragazzi che riuscirò a prendere un sacco di soldi eh vediamo si si ne stiamo facendo chissà se se metto fortuna se ho più fortuna a prendere i soldi ragazzi magari mi vengono più banconote alte non ci credo si sta rompendo il piccone si sta rompendo il piccone dai 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 resisti resisti piccone resisti 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 è rotto fantastico vediamo quanto abbiamo fatto possiamo prenderci un altro set incantesimo vai un altro set incantesimo ci da altre librerie almeno eh ok allora vediamo così no ma così li ho nascoste che stupido vediamo 20 così così com'è c'è tutto così dovresti avere tutto vediamo 30 livello massimo ok ragazzi riuscite a leggere quanti soldi ho quasi 150.000 ok allora direi di prendere del legno della terra pietra ferro pistecca oro acqua carbone diamanti ne prendiamo 1 2 3 per il piccone set incantesimo se lo abbiamo un lupo non abbiamo già più i soldi mela d'oro ho paura di armata di scheletri 5 euro mi sembra una taroccata eh allora vediamo mettiamo subito i diamanti oh guardate quante cose se ho speso un sacco di soldi spero ne sia valsa la pena eh allora mi devo rifare eh ferro devo rifare il piccone addirittura dai cuoci allora con l'oro che cosa ci facciamo ma io ho ancora questo blocco qua ma non ci posso credere ok la terra se qua ancora non è cresciuto nulla io vorrei farvi vedere eh certo che se metti l'acqua bella faccia magari queste cose iniziano a crescere eh crescete con l'acqua allora è pronto qua è pronto in tavola ok allora ci facciamo l'ennesimo piccone ok abbiamo il piccone miniamo tutte queste cose dammi qua dammi diamanti 1 2 cavolo se avevo fortuna e adesso ci vado a pensare con fortuna nel piccone posso prenderne di più allora piccone in diamante vediamo efficienza 4 subito vediamo wow efficienza 4 fortuna 2 indostrittibilità questo è super questo è super vediamo vediamoli in azione oh mio dio sta esplodendo minecraft non si rigenera nemmeno il blocco guardate quanto ho fatto ma quanti ne faccio ok teniamoli qua voglio vedere quanto faccio voglio vedere quanti ne faccio 3 2 1 oh mio dio quanto cavolo scavo veloce ok vediamo tutto deposita 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 no ma sono ancora ricco sono più ricco di prima allora lupo lupo che fa oh ciao tutto bene abbiamo fatto il lupo no che carino ok poi che altro possiamo fare dei libri proviamo dei libri affilatesa protezione eh potrei farmi comunque sia allora diamante potrei farmi un'armatura eh finalmente allora abbiamo anche fortuna vediamo quanti ce ne dà comunque questa skyblock quanto è bella questa skyblock potrebbe essere una delle più belle finora eh guardate con fortuna oh mamma mia 7 9 diamanti 12 ma quanti ne abbiamo ok per sicurezza ci facciamo anche un'armatura perché io voglio vedere armata di scheletri che cos'è respirazione wow che super bonus eh protezione oh mio dio protezione industriattibilità passo anfibio industriattibilità non abbiamo più livelli fantastico ok allora cagnolino bello sei pronto con 5 euro oh ma che cavolo sta il mio lupo ma che è stato che cavolo è stato no no che che non andare a fuoco ma che cavolo è successo ma che ma che non ho capito ma che cavolo è successo scusa aspetta un attimo ma se faccio così ok voglio provare a rifarlo eh dai il mio lupo mi è costato 15.000 cioè è un fulmine fantastico quindi l'armata di scheletri è un fulmine cioè scusa un attimo oh ma che ma che ma guarda un pochettino eh sono queste le manieri No, 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 no 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 cavolo 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 si mette male ragazzi lo sapevo è difficilissimo tutti questi soldi guardate che fine fanno bruciano ah io spero che il video vi sia piaciuto è tutta colpa tua ragazzi ci vediamo presto in un nuovo fantastico video devo spegnere le fiamme ciao ciao